Un saluto a tutti i telespettatori di Cilento Channel, mi trovo presso gli studi della nostra redazione, in compagnia mia ci sono lo chef Franco Marino e Antonio Volpe, titolare del New Blue Angel di Agropoli, puntata nuova di Cilento Focus, ci troviamo qui innanzitutto, vi saluto, buonasera a tutti e due, ci troviamo qui per parlarvi di un grandissimo evento che si terrà domenica 27 gennaio 2019 proprio nel locale di Antonio, allora vogliamo iniziare a parlare innanzitutto di che cosa si tratta, già abbiamo anticipato nel servizio TG, Antonio allora iniziamo proprio a parlare di questo evento, del titolo, dimmi. Sì, questa officina del panino è nata in una collaborazione con lo chef Franco Marino, non che il mio amico di scuola, niente, inauguriamo un altro ramo, ripeto, un altro ramo del Blue Angel che è il lato paninoteca, con questi panini gourmet rigorosamente dei prodotti cilentani, del territorio nostro. Benissimo, quindi il locale che tanti telespettatori già conoscono perché sono già clienti, non solo parlo delle persone di Agropoli ma anche un po' di tutto il cilento perché cari telespettatori sono quasi sei anni circa che è aperta questa struttura, sempre gestita in maniera eccellente dal nostro Antonio Volpe e ha offerto man mano negli anni, è cresciuta, iniziando ad essere diciamo un bar, poi offre diversi servizi che Antonio racconterà, però ci troviamo appunto per questo grande evento con me, con noi anzi, il nostro grande chef Franco Marino, allora Franco ci rivediamo finalmente dopo tanto tempo, è un piacere, è un piacere sempre rivederti, quindi inoltre a tanti di voi telespettatori è conosciuto perché tramite il nostro canale abbiamo realizzato tanti speciali in diverse occasioni e voglio ricordare Franco, in primis Antonio ci permette la presentazione nazionale del tuo libro che sta andando a ruba, quindi vi invito a tutti i telespettatori ad acquistarlo in tutte le librerie e attraverso le diverse piattaforme social e in più vi voglio dire che anche quella sera in occasione di questo evento chi ha intenzione di acquistarlo potrà farlo e verrà anche autografato da Franco. Allora Franco, introduciti tu in questo evento, di che cosa si tratta? Innanzitutto l'ha detto già Antonio, però dacci qualche dettaglio perché… Certo, allora come diceva Antonio questo è un progetto che forse ce ne sono pochi attualmente in zona, quindi noi abbiamo puntato, Antonio mi contattò tempo fa per questa cosa del panino e io gli dissi guarda Antonio, io sono pronto a darti una mano, però dobbiamo fare qualcosa che attualmente non c'è in circolazione, quindi abbiamo fatto qualcosa di… sicuramente che si basa sul territorio, quindi panini che ricordano la mia infanzia, ma penso l'infanzia un po' di tutti quanti, quindi partiamo di base con un pane artigianale che ci viene fornito da Vallo della Lucania e quindi con lievito madre e poi varie farine particolari, farine ricercate, quindi abbiamo anche un panino gluten free, quindi abbiamo pensato anche a chi non può comunque far uso di glutine, quindi un panino gluten free e con prodotti del territorio, quindi un'anticipazione, faremo un panino con la polpetta al sugo. Ah benissimo, tipico la polpetta al sugo, quella che generalmente, penso che tutti i telespettatori preparano anche la domenica. Ma sai perché? Perché quando io ero piccolo, che stavo a casa e che adesso ci sono meno, no? Perché per lavoro, quando si preparavano queste polpette e poi il giorno dopo per mangiarle, si faceva il panino con la polpetta, quindi era bello sostanzioso, quindi mi ricorda l'infanzia. Un altro è il panino con la frittata di patate e cipolle, vuol dire che ti faccio una piccola storia di questo panino, sempre diciamo la mia infanzia, mi ricordo che la mattina i miei genitori contadini preparavano questa frittata e quindi io sentivo l'odore appunto della frittata con le patate e con le cipolle che poi veniva messo nel pane per mangiarlo poi a mezzogiorno, quindi mi ricordava, mi ricorda queste scene, no? Si prendono vita di nuovo e quindi abbiamo voluto insieme ad Antonio fare questi panini che ci riportassero un po' indietro nella nostra infanzia, perché comunque poi nessuno li fa questi panini, quindi a maggior ragione vogliamo un po' concentrarci su questa cosa qui. Giustamente nulla a togliere alle varie specialità che sono diffuse in tutta Italia riguardando le varie paninoteche che mettono in evidenza soprattutto le specialità anche ester che vengono e che sono state portate in Italia, questo e soprattutto non solo nel Cilento, penso che, ma soprattutto perché ci troviamo nel Cilento, vuole esaltare appunto le tipicità locali, come hai detto tu, come hai raccontato, quindi anche questa storia del panino, posso dire, anche mio padre di mattina aveva l'abitudine di preparare la frittata con le cipolle e lui la usava come colazione, quindi i sapori di una volta. L'obiettivo è quello proprio di far risentire e far riscoprire alle persone i sapori di una volta, quindi il panino con la frittata, noi faremo un panino con l'hamburger di bufalo, che siamo nella terra della mozzarella di bufalo e quindi si macellano anche i bovini, i bufalini e quindi faremo questo hamburger di bufalo con provola affumicata e friarielli, per chi non sapesse cosa sono i friarielli sono dei broccoli, che friarielli è il termine campano napoletano, che voglio dire è proprio una varietà dall'altro, non è solo la dialettica, è proprio il friariello è una varietà. La verità di tanti telespettatori, voglio dire il friariello infatti anche nella zona sud di Agropoli, un po' dappertutto noi ricordiamo il peperone, quello verde in genere, frigitello. Si può essere frainteso con quello, però io direi in questo caso il broccolo, che adesso che fa freddo, il freddo veramente forte 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 lo rende paradossalmente più dolce e più croccante, come tutte le verdure invernali, più fa freddo e più diventano morbide e croccanti. Prima di continuare a parlare di questo evento che ci sarà appunto domenica, raccontiamo un po' ai telespettatori, perché da quando è anticipato sempre Antonio nella nostra intervista, voi vi conoscete da un bel po' di tempo Antonio, quindi questa sinergia anche professionale ovviamente, ma la vostra amicizia viene da, diciamo, risale ai tempi della scuola, da quello che mi sono documentato un po'. Sì, la scuola berghiera abbiamo fatto tutta la superiore insieme. E avete scelto tu, ricordiamo che tra l'altro, Franco mi permette, Antonio, a offrire tante specialità tra cui anche funziona anche da pizzeria, fa sempre fatta con prodotti particolari, però tu sei un mastro gelataio in primis, vero? Sì, sì, faccio gelati. Quindi poi la prossima volta un bel evento organizzato con lo chef, legandosi mai, vero chef? Sicuramente. Posso dire, Franco? Beh, è vero perché io sono stato, lo posso dire, cliente del locale di Franco, più gli hanno addietro che uscivamo un po' di più adesso di vari impegni, però devo dirvi la verità, cari telespettatori, cari amici che mi seguite, vi posso consigliare oltre innanzitutto di venire domenica sera e poi di andare a degustare sempre questi ottimi panini, però non solo per degustare le specialità, anche durante il giorno, anche per prendere un caffè perché comunque è un bellissimo bistro, ho detto bene Franco, correggimi se sbaglio, è un bel locale e poi col tempo tu organizzi anche delle serate, vero Antonio? Sì. Diciamo di dattenimento, però quindi dai tempi della scuola. che rapporto c'era proprio subito all'inizio? Guarda, con Antonio, come diceva appunto lui, ci siamo conosciti molti anni fa, quindi parliamo degli anni 2000, primi anni 2000, perché abbiamo frequentato l'istituto alberghiero, però è stata una riscoperta per me Antonio, perché Antonio a scuola non è stato colui che ha proseguito nell'ambito della cucina professionale, diciamo come ristorazione, però ha aperto un'attività che è il bar, pasticcerie, comunque ristorazione, però una ristorazione diversa e quindi mi ha scoperto ed è stata una bellissima scoperta per me, perché veramente merita Antonio, una persona che si impegna, crede nell'impresa locale, fa lavorare anche altre persone, quindi veramente un applauso ad Antonio, perché comunque è coraggioso, oggi come oggi è difficile comunque intraprendere una carriera a livello imprenditoriale. E quindi è stata una scoperta. Quando mi ha proposto di fare questa cosa non ci ho pensato su due volte, come dicevo prima, l'unica cosa che gli ho detto è che dobbiamo fare qualche cosa che faccia la differenza, ma nel senso buono, cioè voglio dire qualcosa che non c'è, perché altrimenti ci soffermiamo su cose che già fanno tutti quanti e noi, voglio dire, puntiamo sulla riscoperta dei sapori di una volta. È giusto, infatti già dallo spot, che grazie innanzitutto Antonio, vogliamo ricordare la bravissima professionista che ha realizzato il booking fotografico, giusto? Sì, sì, sì. Oltre anche qualche video che abbiamo utilizzato, gentilmente ci ha fornito per realizzare lo spot. Come si chiama? Annalisa Mafia. Annalisa Mafia che ha lo studio qui ad Agropoli, giusto? Sì, sì, sì. Facciamo veramente i complimenti perché la bravura sua, la bravura vostra e dello chef, nel preparare. Si intravede, cari telespettatori, anche dalle foto, perché i panini hanno un aspetto invitante, devo dire la verità, e io sono il primo che voglio poi assaggiarli. Quindi veramente una scelta, un team, ovviamente… C'è un'organizzazione per fare questo progetto… E quindi si parte con questo progetto e andrà avanti poi nel tempo, sempre con cose nuove, vero? Verranno cambiati dei, diciamo, dei gusti di panini, a parte quelli classici con la polpetta… Tipo d'estate? Dato che la polpetta vuol più… Certo. Quello con la parmigiana, per dirti, penso che resterà sempre perché è un must, praticamente, il panino con la parmigiana non si discute. Poi ci sarà in base alla stagione, quello che ci offre la stagione, noi quello andremo a mettere nel panino. Quindi prodotti di stagione sicuramente, con prodotti sempre locali, quindi magari noi facciamo già un panino, faremo già un panino con il polpo, però magari con il polpo fritto e i carciofi, perché adesso è periodo di carciofi, però magari lo possiamo fare con qualsiasi altra tipologia di pesce, con prodotti di stagione che in quella stagione ci sarà tipo… Cioè un abbinamento… In primavera si può fare con gli asparagi, con i piselli, una crema di piselli o con qualsiasi altra cosa che possiamo trovare in quella stagione. E in più noi serviremo i panini, giusto Antonio, con delle patate chips fresche fatte da noi. Vuol dire che noi faremo, ogni volta che qualche persona, cliente, verrà a mangiare il panino, ci sarà in accompagnamento in automatico queste chips di patate. Ah, benissimo. E poi con un'altra sorpresina che noi faremo delle maionesi noi espresse. Cari spettatori, voglio ricordare innanzitutto che lo chef Franco Marino, oltre a conoscerlo tramite la nostra emittente e tramite i social, perché è molto seguito Franco, se hai un seguito veramente imponente e importante, anche l'altro giorno l'abbiamo potuto ammirare nella sua maestria in un noto programma di una tv nazionale, e la prova del cuoco, lo citiamo giusto un attimino. E in più, voglio dire che Franco svolge la sua attività lavorativa, l'abbiamo detto tante volte, al nord Italia e poi in più, diciamo, tante collaborazioni, consulenze, giusto dire così, anche nel nostro amato Cilento, sperando di riportarti proprio qui. Vero Franco? Nulla da togliere al nord, perché la tua bravura... Io diciamo che vado lavorativamente parlando dove c'è la richiesta dove mi chiedono di fare determinate cose, in questo caso anche qui, quindi voglio dire proprio nel Cilento avrò una collaborazione con un ristorante che ancora, diciamo, non si sa il nome perché sei in fase di costruzione. Sì, in fase di costruzione. Però posso dire che a Casa del Bellino Marino è una location davvero bellissima, in più la collaborazione che ho già in Franciacorta e altre cose che faccio tipo corsi di cucina e pasticceria a Milano e varie presentazioni del libro che dicevamo anche prima. Quindi sono abbastanza, diciamo, impegnato. Adesso con molto piacere questo progetto del panino che ci tengo veramente molto, molto a cuore per vari motivi. Uno perché Antonio è un amico e due perché credo in questa cosa fortemente, credo in questo far riscoprire i sapori di una volta e quindi per me è una grande, grande scommessa. Benissimo. Quindi, cari telespettatori, potete vedere che appunto Franco è impegnato in mille modi. Io ti ripeto, mi auguro che la tua presenza qui nel Cilento sia, diciamo... Più costante. Eh, più costante. Però mi impegnerò a... io promuovo sempre il Cilento, ora devi sapere. Dove vado vado, in qualsiasi città d'Italia, anche all'estero, promuovo sempre il Cilento. Impatto. Quindi, ritorniamo all'evento. Come sarà strutturata appunto la serata? Vogliono sapere i nostri telespettatori. Allora, la serata inizierà sicuramente con una presentazione del progetto e la presentazione dello chef con Antonio, quindi mia e di Antonio. Poi abbiamo un nostro collaboratore che preparerà dei panini in cucina e io che farò la demo, quindi una dimostrazione di qualche panino davanti al pubblico, dove tutte le persone possono interagire, possono fare delle domande, possono chiedere tutto quello che è inerente al mio lavoro, al panino, all'idea, tutto quello che si vuol chiedere, si può chiedere tranquillamente. E facciamo quindi degustare. È una degustazione aperta, libera, quindi ci sarà un buffet dove faremo assaggiare varie tipologie di panini che abbiamo sul menù. Ovviamente saranno dei bocconcini di panino, ovvero che un panino farcito, classico, poi lo suddividiamo, lo mettiamo sul buffet, così tutti quanti possono assaggiare varie tipologie. Vi anticipo cari telespettatori che ci sarò pure io, però il piacere di presenziare ci vogliamo divertire. Deve essere una festa, quindi mi vorrò divertire anche io innanzitutto. Poi ovviamente degustando questi bocconcini, questi assaggi, perché appunto è un cooking show, correggetemi se sbaglio, voi siete più del settore, vi sarà la possibilità di ammirare appunto Franco, che preparerà, spiegherà, potete fare domande, curiosità. Poi chi vuole degustare anche altre cose, il bistro è aperto, ovviamente. O chi dice, no, questa serata mi prolungo dopo la presentazione, mi voglio degustare già quella sera, seduta a tavolino, un panino, uno delle tante varietà di panini lo può fare, giusto? Questo è importante, oppure degustare dell'ottima birra. Ancora i gelati un po' troppo presto, Antonio, vero? E cominceremo fra un mesetto. Fra un mesetto, quindi. E quindi sarà una serata, un divertimento, carissimi telespettatori, perché ci saremo anche noi appunto. Saremo in diretta, sia televisiva che anche su tutti i social. Però io vi invito a venire, dovete venire perché sarà una festa, veramente una festa. Volevo fare proprio un appello, quindi molte persone mi chiedono sempre sui social, Chef, dove posso venire per degustare? In questo caso potete venire ad Agropoli, a Trentova, verso il New Angel di Antonio Volpe. E io sono lì pronto con un sorriso smagliante, come sempre, pronto a rispondere alle vostre domande. Potete fare tutte le domande che volete, vi farò degustare i panini come abbiamo detto e magari faccio intervenire anche qualcuno. Perfetto. Se uno dice, voglio vedere come si fa, vieni dietro commenti. Giusto, giusto. Non tutti perché altrimenti diventerebbe un po' troppo difficile da gestire, però magari qualcuno lo facciamo anche. Poi il bello della diretta in quel caso è che io sono molto imprevedibile. Sì, infatti Franco è imprevedibile, ma non solo lui, perché ne vedrete delle belle, ve lo assicuro, soprattutto da parte mia. Quindi ti avviso Franco, ne vedremo delle belle. E anche Antonio, perché, Antonio dovete sapere, è una persona simpaticissima, però sei un po' timido Antonio, vero o sbaglio? Sì, però vi assicuro, me lo permetti Chef Franco, e Antonio, devo dire la verità, ho assaggiato il gelato che fa lui e la fine del mondo. Quindi, in aggiunta a questo, vi ripeto, tutte le specialità, vero o sbaglio? Adesso il locale di Antonio è totalmente completo. Adesso col panino si chiude il cerchio, ovvero una persona, e i clienti di Antonio lo sanno benissimo, che viene lì da Antonio può mangiarsi un panino, una pizza, può mangiarsi un buon gelato, può sosseggiare un buon caffè, un buon aperitivo. È un locale a 360 gradi, soprattutto, come dicevo prima, materia prima di altissima qualità. Antonio, lui non l'ha detto ancora, ma partecipa anche a degli eventi col gelato. Sì, infatti l'ho seguito. Eventi nazionali, quindi voglio dire, si mette in gioco, è da apprezzare tanto, e io gli auguro tante tante belle cose. Poi adesso un motivo in più per venire, quindi stendiamo l'invito a tutto il cilento, di magari venire a provare, poi ci faranno sapere com'è questo panino. Ci faranno sapere com'è questo panino, che sicuramente sono buoni. Infatti, cari telespettatori, come ha detto appunto Franco, un po' in tutti i locali, quando si esce, si cerca di degustare un po' tutto. Essendo che si tratta appunto di un panino gourmet, fatto con prodotti veramente della nostra terra, nulla da togliere alle specialità, diciamo, sempre fatte con materie prime, però con ricette che richiamano le tradizioni di paesi anche esteri, vi posso assicurare che ci voleva un locale con questa tipologia di panino. Caro Antonio, mi vedrai spesso, voglio dire. Quindi cari telespettatori, saluto tanti signori di Agropoli, mi permetti Franco Antonio, perché ho avuto il piacere di incontrare alla proiezione di un film che è stato messo, diciamo, in visione nazionale, anche qui ad Agropoli, realizzato al mio paese, lo voglio dire. Scusate se vi rubo tanto. Signore che mi avete salutato, vi aspetto al New Blue Angel. L'ho detto bene Antonio, quindi telespettatori, cosa aspettate? Dovete venire, innanzitutto, chi non lo conosce, conosce già il locale, parlo del locale. Le specialità, ci divertiremo con questo show, insieme all'amico Franco Marino, e all'amico Antonio, ma Franco soprattutto, perché, come ha detto, è imprevedibile lui e sono imprevedibile. Ci divertiremo, vi aspettiamo e veramente si inizia un nuovo ciclo di degustazioni qui nel Cilento che parte appunto da un'idea appunto di Antonio e dello chef Franco Marino. Quindi che dire di più Franco? Fallo tu un invito. Allora, eh certo, certo. Innanzitutto, chiudo dicendo grazie a voi della redazione, è sempre un piacere. E invito tutti i telespettatori a venire il 27 a Trentova, giusto? Sì, località Trentova. No, perché dico, vedi che sbaglio. Trentova, Trentova al Blue New Angel. Faremo questi panini, quindi vi aspetto numerosi e qualcuno di voi interagirà con me. Perfetto. Antonio? Toon. Vi aspetto, mi raccomando, non mancate. Che con Antonio ci divertiremo. Perché anche Antonio è stato tranquillo, però domenica preparate Antonio che ne combiniamo delle belle. Però voglio dare un piccolo appunto soprattutto per i tanti telespettatori che seguono anche a Sud. Io dico di Agropoli, oltre a quelli che seguono l'uscita, conviene fare Agropoli Sud. Poi seguite per arrivare al centro. Quindi prima dell'ospedale di Agropoli, attualmente, girate, prendete quella strada, giusto? Seguite la località Trentova e vi troverete in questo splendido locale che è il New Blue Angel. Quindi passeremo insieme una bella serata, ci divertiremo e degusteremo già in anticipo le specialità. Quindi io vi ringrazio della cortesa attenzione che ci mostrate sempre con i nostri programmi. Franco, ci vediamo domenica. A disposizione, un piacere. Sperando che vada tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. Andrà tutto bene e seguitemi anche alla prova del cuoco. Assolutamente. Che ci saranno belle ricette, facili, adatti a tutti quanti. E un'ultima cosa, poi, me lo promette anche questa volta, il prossimo libro sarà dedicato a tutti coloro, cioè noi maschietti, che vogliamo conquistare il gentil sesso con la cucina. Mi piace. Verro, giusto? Certo. E un'idea, sarebbe una cosa carina, quindi appuntamento domenica 27 gennaio ore 19 e 30 ad Agropoli al New Blue Angel. Grazie e arrivederci. Ciao. Ciao.